buon pomeriggio amiche come state bene sicuramente state meglio di me perché io caldo oggi non so perché ho tanto caldo anche se in realtà comincia a essere bello freschetto quindi quindi tutti i nuovi arrivi andranno benissimo perché perché i nuovi arrivi di questa settimana sono la maggior parte maglioncini perché la scorsa settimana c'è stata una grande richiesta di maglioncini e quindi questa settimana vi ho voluto accontentare allora prima di tutto diciamo la promozione perché so che la state aspettando in tante allora la promozione di questa settimana innanzitutto continua quella della scorsa settimana quindi chi paga cioè chi acquista per un valore di 100 euro la spedizione rimane gratuita in aggiunta a questa promozione c'è la promozione che torna anche questa un omaggio a nostra scelta per chi ovviamente fa un acquisto sempre dei 100 euro quindi per chi acquista un minimo di 100 euro alla fine avrà la spedizione gratuita e un omaggio a scelta questa ovviamente è una promozione solo per chi acquista online quindi per chi dobbiamo spedire per aiutare un po' sulle spese di spedizione che stanno aumentando purtroppo i corrieri ormai è come sono come loro stanno aumentando e quindi le spese di spedizione sono aumentate leggermente e quindi io per andare incontro ovviamente farò questa queste promozioni e magari ne farò ogni settimana un po' più allettanti proprio perché voglio alleggerire chi acquista online per chi viene in negozio io mi riservo sempre di fare un piccolo sconticino ovviamente il piccolo sconticino non vi aspettate il 10 per cento il 20 per cento perché ovviamente non siamo in periodo di saldi lo sconticino significa arrotondare anche perché i miei prezzi sono già molto contenuti e quindi sui nuovi arrivi poi sappiamo bene sfido diciamo di andare in giro e guardare in tutti gli altri negozi non si fanno sconti sui nuovi arrivi anzi molte volte si paga che ne so 13 90 si pagano anche i 90 centesimi io invece sempre il 90 centesimi lo elimino sempre ma poi nel totale cerco di arrotondare ma non vi aspettate grossi cifre perché poi ci imbattiamo in ma tu avevi detto e non lo mantieni io dico lo sconticino ma non dico il 10 per cento va bene io voglio essere chiara perché io sono trasparente quindi voglio che poi voi non mi crediate quando venite qui in negozio ovviamente quello quando io sono presente quando io non sono presente perché magari ho da fare delle commissioni fuori e ci sono le mie ragazze le mie ragazze non sono autorizzate a fare sconti a fare sconti quindi purtroppo magari vi riservate nella prossima volta che venite se io ci sarò vi farò magari lo sconto della volta precedente di quella successiva va bene di questo io poi manterrò la parola ok allora allora si saluta non ti fanno i compagni grazie grazie mille bellissima grazie anche dice la spedizione gratuita si vale anche per eventuali spese diciamo all'estero ma all'estero un discorso diverso all'estero è diverso perché la spedizione all'estero costa il triplo di quella in italia e quindi magari ci mettiamo d'accordo tu ci messaggi su whatsapp effettui l'ordine su whatsapp e poi magari ci mettiamo d'accordo di vi vengo incontro anche sulla spedizione ovviamente anziché magari pagarla per intero vediamo un po vediamo un po ma parliamo di due cose diverse ovviamente ok possiamo cominciare allora cominciamo innanzitutto dal mio outfit oggi una novità il capri il solito capri che io vi mostro sempre nel blu e nel nero e nel coccio questa settimana è arrivato in questo colore ottanio meraviglioso colore nuovo un colore che va tantissimo quest'anno che lo ritroviamo dappertutto anche insieme ad altri colori tant'è vero che io ho abbinato questa maglia questa casacca dove insieme ai colori marrone coccio c'è anche l'ottanio perché è un quando il colore è il colore della stagione lo ritroviamo ovunque anche nei tessuti diversi magari o nelle anziché il pantalone maglia o giacca lo ritroviamo quindi pantalone dalla 44 alla 60 29 90 o alla 56 56 gli altri colori invece fino alla 60 quindi dalla 44 alla 56 29 90 la casacca invece è una taglia unica che veste fino a una 46 e costa sicuramente vediamo 24 e 90 questa la troviamo abbiamo anche un'altra variante di colore che dopo ve la faccio vedere abbinata al pantalone coccio molto bella anche quella e poi nuovi arrivi anche questi tronchetti vi faccio vedere dove sono alti che nonostante abbiano questo bel tacco che voi sapete che io odio i tacchi ma vi devo dire che sono comodissimi quindi io sono già una bella mezz'oretta che sono su questi trampoli ma sono comodi quindi perfetti bene e le scarpe 29 90 ok cominciamo cominciamo da questi vestiti che sono tra lo sportivo e l'elegante lo sportivo perché sono in felpa in cotone felpato in cotone felpa garzata e poi perché hanno volendo vedete con l'accessorio giusto noi abbiamo abbinato la collana che riprende un po i colori con questo stivaletto anche che ho io possiamo anche farlo diventare un po elegantino questa è sempre una taglia unica che veste fino a una 48 50 e costa 34 e 90 molto bello sempre stessa tipologia leggermente più corto questo qui vedete che carino ma bellissimo nella sua semplicità ma è bello molto bello sempre felpa garzata sempre taglia unica che veste sempre una 48 50 e il prezzo ve lo dico subito non ve lo dico perché non c'è scritto 44 no si 44 e 90 ok perfetto mi sentite adesso o forse dovete alzare il telefonino il volume del vostro telefonino questa è un'altra tipologia di di vestito anche questa è molto bella per quanto sembra a sacco ma non lo è questo è uno stile red in go diceva mia madre nel senso che era è un po sfiancato qui e poi scende molto morbido sotto infatti sotto è molto più ampio e anche leggermente più corto avanti e più lungo dietro anche questa è una taglia unica e veste una 48 e costa 39 90 benissimo allora no questa è una taglia unica che veste massimo una 46 perché io che ce l'ho addosso sento insomma che qui sotto comincia a tirarmi quindi io sono una 44 una 46 è al limite nel tempo c'è maria che dice possibile mettere da parte la 46 del pantalone che indossa allora come si chiama maria maria ascoltami maria questa cosa adesso in questo preciso istante tu stoppi la diretta vai su whatsapp e lo scrivi su whatsapp e quindi l'ordine è fatto su whatsapp perché se tu me lo fai qui io in questo momento ti dico va bene però appena finisco la diretta io ho diecimila cose da fare tra cui andare anche a rispondere ai messaggi su whatsapp insieme alle ragazze e non non mi ricorderò più della tua richiesta invece valla a scrivere su whatsapp che sicuramente adesso appena finiamo la diretta le ragazze la prima cosa che faranno te lo toglieranno va bene tanto questo diventerà anche questo un continuativo quindi se non lo non arriva questa settimana se non c'è oggi domani ci sarà la prossima settimana tranquillamente a red in go il vestito red in go non lo so perché che cosa vuol dire è un modello che lei mi diceva che era più sfiancato qui e si allargava sotto allora questo è un maglioncino ora comincia un po la carellata dei maglioncini questo modello particolare perché ha una maglia un po larga sotto che si stringe con questo laccetto questo lo troviamo in due colori in questo color coccio anche questo modello che si allarga sotto modello il color coccio e nel blu elettrico molto bello maglioni 29 90 questi sono taglia unica che vestono fino a una 46 anche 48 forse se perché sotto al bacino si allarga un po poi ovviamente riservatevi sempre di mandare le misure le vostre misure su whatsapp basta dire giro seno giro vita e giro fianchi e noi vi sappiamo dire precisamente se la maglia o la casacca o il pantalone o anche il capospalla vi va benissimo grazie sapete perché c'è un segreto perché li ho accorciati un pochino oggi oggi li ho tagliati un pochino perché la mia parrucchiera mi diceva che sono troppo lunghi e quindi cadono troppo a me che non piacciono molto lisci e quindi per far mantenere meglio la piega li ho dovuti scalare un po vi accorgete di tutto eh brave allora questa è un'altra tipologia di maglioncino a costine quindi il maglioncino a costine di solito sono un po più elasticizzati però sono un po più aderenti rispetto agli altri quindi questa è una linea aderente una linea che veste bene una 42 44 perché insomma la 46 comincia ad aderire molto e non sta molto bene questo lo troviamo solo in questi due colori coccio e blu elettrico 29 90 anche questi a questo invece un modello particolare vedete che bello nel bianco e nel nero con questi manicotti bellissimi questo è un tre quarti ovviamente ed è un maglioncino che possiamo mettere adesso da solo senza capospalla anche perché un bella una bella lanettina un po più pesante rispetto agli altri ed è molto particolare questa questo con un pantalone nero e la fine del mondo io l'ho abbinato a questo capospalla particolare anche se in realtà questo va messo anche da solo però ovviamente per una sera un po più fresca lo abbiniamo a questo cappottino sul grigio e nero con queste frange particolari bellissimo maglioncino 34 90 mi sa che costa si 34 e 90 ma cappottino invece 29 90 ci chiede una maria buonasera signora buonasera allora questo cappottino è una 44 46 in realtà però di cappottini 48 cappottino proprio se lo vuoi come questo stilizzato proprio a cappottini non ancora arriveranno ci sono dei piumoni dei piumoncini dei trapuntini dei cento grammi dei giubini necopelle quello sì che magari dopo vi mostro sì questo solo è arrivato al momento nel bianco e nero sì adesso invece vi presento queste due felpe carinissime mi chiedete sempre a volte ultimamente cose 42 44 giovanili per ragazzine per ragazze eccole qua che poi io la metterei tranquillamente se avessi meno pancia sinceramente perché è bella corta però sono due felpe garzate carinissime anche queste 29 90 queste sono una 44 46 sono vestono bellissime da mettere sul jeans tranquillamente questo invece un bel completo di questa camicia particolare e questo un pantalone nero che ormai sono arrivati del tessuto un po più pesantino come vi dicevo prima le altre punti altre se le altre dirette che il tessuto del capri era quello di mezzo tempo adesso invece è arrivato proprio quello un po più pesante perché le amiche che abitano al nord ovviamente mi dicono qui fa tanto freddo e ormai ci servono le cose invernali allora questa è una camicia particolare perché ha un collo particolare io ieri l'ho vista indossata ed è bellissima perché è un collo che si mantiene al cioè indossata si mantiene alto così ed è veramente carinissima la stessa cosa sui polsi particolare e costa 29 90 questa indossa anche una 46 ieri l'ho vista indossata stava bene a una signora che portava una 46 pantalone invece 44 60 sempre 29 euro le 29 90 i pantaloni i miei pantaloni che siano pantaloni e non jeans hanno tutti l'elastico in vita a partire dal capri questo qui che non è capri è una linea sempre aderente un po più lunga del capri il modello a zampa il modello con la fascia laterale elegante quella con la fascia stretta laterale argentata sono tutti con l'elastico in vita perché sono comodissimi e siccome io adoro la comodità i miei pantaloni sono tutti così chiede Anna se per capire abbiamo invertito la presentazione oppure non ci sono taglie over no 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 ci sono abbiamo invertito perché a volte iniziamo dalle taglie over a volte dalle taglie piccole arrivano arrivano questo è un completo invece con questo pantalone a zampa modello jeans e quindi a cerniera e bottone perché è modello jeans a zampa in vellutino a costine strettissimo elasticizzato di questo abbiamo solo la taglia 42 44 non oltre dove io ho abbinato questa casacca che è un po tipo quella che indosso io come modello ma è diversa la casacca sempre 44 46 massimo pantaloni l'ho già detto 29 90 il pantalone 24 90 la casacca altro completo da abbinare ma questo sempre con l'ottanio no questo con un pantalone coccio ci sta benissimo magari non l'hanno messo perché l'abbiamo messo nelle taglie over pantalone coccio con questa casacca che è uguale a quella che vi ho appena presentato in un'altra versione di colore dove io abbinato questo bel capospalla che riprende un po benissimo vedete i colori è un cappottino in camoscio questo è una 46 la veste benissimo è forse anche una 48 no dipende no per l'amica che mi chiedeva il cappottini 48 questo potrebbe perché è un tessuto un po elasticizzato quindi cappottino 29 90 24 90 la maglia nel nero solo neri ecco qui un'altra alternativa al mio pantalone che indosso nell'ottanio questa bella camicia color coccio e ottanio dove ci sono dei disegni che riprendono un po il colore meraviglioso questo completo allora ricordiamo di nuovo la promozione a per chi si è collegato adesso allora la promozione rimane sempre quella della settimana scorsa quindi per chi fa un minimo di acquisto di 100 euro la spedizione diventa gratuita sempre per chi spende 100 euro si aggiunge un'altra promozione un omaggio a scelta questa volta ci saranno belli omaggi belli omaggi quindi come vedete ci sono due promozioni in una sempre per chi spende da 100 euro in su ok poi vogliamo ricordare dove ci troviamo ok perché io le dirette non è che le faccio soltanto per le amiche che abitano al nord per chi vuole acquistare online io le faccio anche per le amiche che mi vengono a trovare infatti molte mie clienti che sono venute la settimana scorsa mi dicevano ma io posso vedere la diretta e magari subito dopo ti scrivo un messaggio e dico posso venirlo a ritirare il negozio certo perché le dirette sono fatte anche per questo quindi noi ci troviamo a Molfetta in provincia di Bari e ovviamente in Puglia e per raggiungerci bisogna prendere la 16 bis e uscire a Molfetta sud che è l'uscita più comoda perché è una strada dritta dall'uscita dei Molfetta sud puoi prendere una strada dritta dopo quattro semafori ci trovate sulla destra quindi potete già parcheggiare ci trovate sulla destra io strapperò il microfono ok continuiamo allora gonellone nero famoso gonellone che è arrivato anche nelle settimane scorse in altri colori questo è il gonellone che veste anche fino a una tripla xl dove io ho abbinato la stessa maglia che indosso io in un'altra versione di colore quindi maglia che veste fino a una 46 e il gonellone invece fino a una tripla xl ovviamente non è che indossa solo la tripla xl anche una 44 46 lo indossa benissimo questo gonellone però arriva anche fino a una tripla xl ovviamente uno può decidere di comprare anche solo il gonellone e magari si abbina una maglia che io tra un po' indosserò farò vedere delle taglie over perché tutto ciò che io vi sto mostrando può anche essere diviso non sono completi che noi mettiamo insieme degli outfit che creiamo noi ma in realtà possono essere venduti singolarmente ok quindi maglia 24 90 34 e 90 la gonna adesso viene un bellissimo completo si spediamo in francia in tutta europa si si ci può contattare in privato e lì ti diamo tutte le informazioni del caso ma ricordiamo come fare per come fare per acquistare certo bisogna scrivere su whatsapp prima l'ho detto all'amica che voleva i pantaloni in diretta bisogna su nella descrizione nella didascalia trovate due numeri telefonici su questi due numeri potete non chiamare ma messaggiarci andare su whatsapp e messaggiarci magari fare una foto di ciò che avete visto nella diretta che vi piace e la mandate su whatsapp oppure dirci su whatsapp mi interessa questo mi interessa quest'altro oppure come fanno tante persone io sono una tripla xl cosa hai da farmi vedere potete scriverci qualunque cosa e noi poi li vi diamo tutte le informazioni necessarie per l'acquisto poi i costi di spedizione come spedire come pagarci vi diciamo tutto lì in privato va bene allora capri blu dove è stato abbinato questa bella casacca bordeaux bellissima raffinatissima dove è stato poi abbinato questo cappottino meraviglioso più che cappottino è un giaccone è una giacca che io ieri l'ho indossata e sta veramente bene il collo può portarsi ovviamente così oppure lo sbottoniamo e lo possiamo portare così il giacchino questo cappottino veste una 46 fino a una 46 quindi anche una 42 lo veste benissimo e costa 44 90 mentre 29 90 la camicetta e 29 90 il pantalone bel completo adesso una carellata velocemente perché i modelli sono uguali cambiano solo i colori quindi ora cominciamo le taglie over ok quindi cominciamo cominciamo con i maglioncini con le taglie over perché la settimana scorsa ce n'erano pochi me ne avete chiesti tanti e io ve li ho fatti ve li ho trovati ecco qui quindi modello vi faccio vedere al primo il modello poi gli altri ve li faccio vedere velocemente solo per vedere il colore ma il modello è identico io questa settimana sono arrivati anche i foulard e le sciarpe bellissime di colori bellissimi perché visto che i maglioncini in lanettina sono tinta unita ci possiamo divertire e con una collana o con un foulard vista la stagione meglio il foulard o la sciarpa quindi questo è un modello molto ampio con la manica bella stretta che veste anche fino a una tripla xl e lo possiamo trovare nel blu elettrico nel grigio vedete le sciarpe come sono belle abbinate anche ai colori meravigliosi e nel panna no forse questo è un altro modello o è lo stesso uguale al primo è uguale al primo ok 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 anche questi 29 90 vero sì 29 90 questo è una costine ma questa volta costine orizzontali e non verticali quindi non diventa aderente come quello che vi ho fatto vedere nelle taglie piccole ma è sempre un modello ampio un po più lungo di quello che vi ho mostrato prima questo veste un po meno della tripla quindi questo andiamo intorno alla xl doppia massimo anche questo 29 90 si le sciarpe tutte 9 90 sia queste che sono foulard quindi tipo seta che quelle così che sono un po più doppie quindi un po più calde i due le queste sono le due versioni di colori nel viola e nel coccio bellissimo color biscotto più che coccio sempre 29 90 mentre questo è un altro modello con la manica costine quindi una bella manica aderente per stare più caldi e poi tutto bello ampio anche questo veste fino a una tripla xl lo troviamo in questo color mattone nel verde e nel fucsia bellissime le sciarpe anche questo 29 90 si più in lassi li ho avuti anche l'anno scorso anche i guanti arrivano arrivano diciamo che adesso ancora presto io lo so che al nord magari fa freddo avete ragione avete ragione però il negozio è anche grande però non ha sufficienza per poter prendere della roba che magari deve stazionare qui per un po' di tempo andiamo avanti andiamo avanti ma ma può essere pure che nelle prossime settimane ci chiede marina niente color verde militare nei maglioncini verde militare no no è un colore che non ho trovato sinceramente trovo spesso questo verde evidentemente è un colore che quest'anno non sta andando tantissimo perché quest'anno più l'ottanio o questo verde o l'ottanio ma il verde militare no poi felpa è arrivata di nuovo questa felpa sportiva che veste fino a una doppia tripla xl felpa garzata sportiva sul jeans tranquillamente e costa 29,90 anche questa ci chiede Adele avete vestiti? vestiti sì ci sono ci sono forse oggi non li presento però magari se scrivi su whatsapp magari le mie ragazze ti mandano qualche qualche foto poi tu dici che tagli e in base alla taglia ti mandano le foto questo invece adesso passiamo un attimino a un modello un po più classico rispetto ai maglioncini quindi un completo ecco fatto così un po più elegantino quindi maglia a taglie dalla l alla tripla xl pantalone invece pantaloni col pizzo sotto dalla 44 alla 60 pantalone 29,90 e maglia 49,90 dove abbiamo poi abbinato il capospalla 100 grammi in questo color mattone bellissimo questa è una 53 con formato altro completo con il pantalone color coccio e maglia col fondo nero sempre elegantina e il di sotto un po maculato che riprende un po il colore bellissima maglia sempre 49,90 dalla l alla tripla xl pantalone 29,90 dalla 44 alla 60 questa invece è una serie di maglie taglia unica ma che sono belle grandi quindi anche un conformato riesce a vestirla una tripla andiamo sul sicuro e lo troviamo in questo colore nel verde e nell'azzurro da mettere col pantalone blu magari ok prezzo mi sa 29,90 sì 29,90 c'è Maria sempre che dice sul pantalone che indossa Anna oltre a quella camicia c'è altro da abbinare che non sia aderente allora di nella mia taglia non me lo specifica nella mia taglia nella mia taglia anche questo del pantalone 40 centi sì allora sì c'è anche questa camicia ad esempio che è bellissima ed è bella ampia non è aderente anche perché anche io non amo moltissimo le cose aderenti oppure possiamo andare sul maglioncino quindi un maglioncino in lanettina o così oppure questo qui a costine color biscotto ci sta benissimo sull'ottanio eh poi alla fine basta insomma abbinare tipo questo questo maglioncino color biscotto con una collana che riprende un po' il colore dell'ottanio ed è perfetto ci chiedono il prezzo del 100 grammi 100 grammi 49,90 ah questo è un altro bell'abbinamento sempre maglia uguale a quella che vi ho presentato poc'anzi che veste una tripla XL anche se è taglia unica costa 29,90 a cui abbiamo abbinato il 100 grammi nello stesso colore sul bordeaux taglia 51 bellissimo ah ovviamente completi con gonne taglia 51,53 gonne no al momento non ce ne sono invece mi è arrivato questo jeans che veste fino alla 60 quindi vedete questo è un bel abbinamento dove io ho abbinato il jeans per sdramatizzare un po' la maglia un po' tutta brillantinata jeans 39,90 Marilena ci chiede avete giubbato in ecopelle taglia 58? 57 massimo oppure la 5 XL quindi da misurare o da misurare o da darci le misure se non sei di qui da darci le misure su whatsapp e noi ti diciamo se ti può andare o meno questa è un'altra maglia taglia unica che veste sempre fino a una doppia XL a cui abbiamo abbinato questo bel capospalla grigio perla bellissimo maglia sempre 29,90 stessa tipologia di maglia abbinata al pantalone ottaneo aspettate che qui sono diverse le maglie allora stessa tipologia che riprende un po' i colori dell'ottaneo del verde le sfumature del verde e ci sta benissimo maglia sempre taglia unica che veste fino a una doppia XL 29,90 e pantalone ottaneo sempre 29,90 sempre sullo stesso pantalone mi avevano messo anche questa che questa invece è una taglia over una taglia molto grande che veste anche un conformato quindi una 53,55 ce la facciamo questa costa forse un po' di più essendo taglia over no sempre 29,90 ok e questa la possiamo trovare in tanti colori ve li faccio vedere sta nel grigio nel bordeaux e in questo tortora ovviamente il tutto lo abbiamo li abbiamo abbinati queste maglie al pantalone conformato metà in ecopelle metà in tessuto elasticizzato pantalone 39,90 maglie 29,90 ultimo completo un completo c'è chi l'ha chiamato tuta può essere anche chiamata una tuta perché abbiamo il pantalone con la fascia in ecopelle e maglia può essere sportivo se messo con una sneaker con un tronchetto o con il giusto accessorio la giusta scarpa può diventare anche elegante questo è un completo conformato che va dalla 51 alla 57 e costa 79,90 perfetto allora vediamo un po' di domande ci dice dolce chicca il maglioncino puzia di prima taglia si può usare anche come vestito vedo che è lunghino di prima taglia che vuol dire? penso abbia sbagliato col tin questo qui ah mostrato prima questo qui beh sì dipende da quanto sei alta insomma perché in realtà questo è molto ampio molto lungo quindi se sei alta un metro e sessanta o un poco meno ce la fai ce la fai poi con le calze doppie microfibra alla fine sì ce la fai poi c'è Grazia che dice le maglie plissè che sono 105 di seno e 115 di seno allora le maglie plissè oggi non le ho presentate quindi non so se ce ne sono ancora in negozio magari questa stessa domanda ponila su whatsapp e sicuramente Marianna o Maria ti sapranno rispondere scusa Lucia che chiede buonasera taglie over di camice ne avete? camice con i bottoni no mi sa che è terminata anche quella forse una sola nel celeste è rimasta una taglia conformata che mi sa che è una 53 qui c'è Margherita che dice cosa corrisponde la 51 la 51 siamo tra la 52 e la 54 all'incirca poi c'è Maria che chiede avete per caso borse nere? sì adesso vi devo mostrare tante borse che sono arrivate ieri così come tante scarpe nuove che sono arrivate ieri adesso ve le mostro tutte vediamo se c'è qualche altra domanda se no andiamo ah vabbè il dolce che diceva purtroppo sì sono bassa 1,62 no perché purtroppo anch'io sono bassa 1,60 sono vedi più basso di te no no noi siamo giuste e chi è più alta c'è Marianna la mia commessa che è alta allora lei ogni volta dice eh ma questo è corto questo vestito no sei tu che non sei normale che sei altissima ma per noi che siamo normali è giusto scherzo siamo tutti normali poi ci richiedono di vedere le maglie che abbiamo abbassato prima in questo caso allora in questo caso adesso che terminiamo la diretta noi la prima cosa che facciamo la pubblichiamo quindi voi potete tranquillamente rivedervela cento volte fino a che non capite bene di che modello vi piace quale modello vi piace quindi aspettate poi c'è cosa che dice il modello del maglione fucsia arriva nero e blu? nero e blu nero sì blu non lo so perché non sempre i maglioncini hanno il blu scuro hanno piuttosto il blu elettrico il nero sì quindi il nero io a volte evito di prenderlo oppure se lo prendo non lo mostro quindi magari ce l'abbiamo ma non lo mostro perché preferisco prendere i colori il maglioncino nero è il solito però di tutti i maglioni che vi ho presentato c'è anche il nero cioè è possibile ritirare anche il nero quindi tantissime ci chiedono il prezzo del 100 grammi nuovamente 49,90 il 100 grammi e anche Agatha chiede la maglia che indossi quanto costa che taglia è 24,90 e veste fino a una 46 massimo 46 ok adesso vediamo le scarpe venite con me venite con me allora vediamo scarpe e borse allora questa questa settimana mi sono arrivati anche gli stivali anche questo modello camperos che dicono che vanno va tantissimo insomma le ragazze ma anche chi veste in una certa maniera c'è anche la cerniera così è comodo per infilarlo gli stivali 39,90 come stivale abbiamo sia questo poi è arrivato questo che è molto bello questo è un po' più alto che arriva al ginocchio copre il ginocchio bellissimo meraviglioso vi faccio vedere di qua c'è la cerniera quindi molto comodo anche come tacco comodissimo anche questo 39,90 mentre un po' più basso molto morbido c'è questo qui come stivale sempre con la cerniera 39,90 anche questo questo è quello che indosso io che vi dico che è comodissimo veramente oggi non sto soffrendo di solito quando metto il tacco non vedo l'ora di finire di buttare all'aria le scarpe perché fanno malissimo ma queste come se non ce li ho non le sento proprio veramente belle c'è Enza che dice bellissima Marianna è bellissima sì è vero è bellissima è bellissima è bravissima però è molto alta scherzo scherzo allora anche Maria è bella allora questo invece è un modello che sta andando tantissimo quest'anno molto molto bello e tra l'altro molto comodo bellissimo anche questo 29,90 ovviamente i numeri sono dal 36 al 41 o dal 37 al 41 dipende dal modello queste sono informazioni che dovete chiedere su whatsapp ovviamente come borse invece vi faccio vedere ecco questo è un modello color tortora e c'è anche in altri colori c'è nel verde che adesso ve la prendo e ve la faccio vedere che è molto bella vedete che bella bellissima anche questa 29,90 questa volta sono arrivate anche borse da 19,90 che adesso vi mostro questa è molto comoda perché ha la cerniera dietro che non sapete la comodità per mettere il telefonino o le chiavi che sono sempre quelle che non troviamo mai in borsa è un modello che si può portare tranquillamente a spalla o che si può portare a braccio o a mano bellissima anche questa poi poi venite con me che vi fa ah poi sono arrivate le snakes di nuovo sono arrivate sia con il dorato che con l'argentato questa è 19,90 dal 36 al 41 sì poi come borse sono arrivate anche queste un po' più piccole ovviamente c'è la tracolla con doppia cerniera comodissime sia doppia anzi tripla cerniera e c'è anche la tracolla dentro di piccolo è arrivato sia questo ce ne sono ah c'è bella vedete vedete vi faccio vedere questa venite a vedere aspettate che l'ho messa in vetrina perché è veramente meravigliosa vedete che bella una chicca con la pelliccetta bellissima anche questa questa ovviamente si apre con il bottoncino e c'è la cerniera dentro e anche questa ha la cerniera dietro e poi di piccolo è arrivato anche questa una tracollina trapuntata bellissima anche questa comoda con la sua cerniera interna allora c'è Mary che dice vogliamo conoscere le tue ragazze avete ragione ma loro si vergognano e non vogliono mai essere riprese al massimo sentite la voce di Maria ma Marianna non ne parliamo proprio e poi c'è Cristina che dice buonasera i camperos sono in color fuoio o c'è anche neri allora al momento sono arrivati solo in questo colore ma possono arrivare anche neri però non lo sappiamo al momento diciamo io confermo sempre quello che c'è al momento perché io posso dire che quando le ho prese c'erano anche il nero ma non lo so quando tornerò la prossima settimana se li ritrovo quindi confermo questo colore venite a vedere quest'altra borsa che bella questa c'è anche nel bordeaux bellissima anche qui c'è la tracolla quindi si può portare a mano o si può portare con la tracolla che è una tracolla che parte di qua e arriva dietro quindi è di traverso ed è bellissima questa invece è 19,90 anche questa con la cerniera 19,90 poi c'è anche questa bellissima perché è una giusta misura di spalla vedete questa la potete trovare nel bordeaux e nel blu blu scuro anche questa 19,90 poi vediamo che altro c'è da farvi vedere ah come modello di scarpe venite venite c'è anche questo che è molto bello infatti ci chiedeva un'amica se per caso di scarpe sportive c'erano altri colori oltre che il bianco sì ci sono queste nere c'è anche questa col nero molto bella ovviamente chiedeteci numeri disponibili perché non sono certa che ci siano tutti i numeri di questa forse questa è molto comoda molto bella c'è Letizia che dice bellissimo il vestito in vetrina ah sì quello elegante quello mostrato un po' di dirette fa sì 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 allora io penso di avervi mostrato tutto anche se non vi ho mostrato tutto potete rivederlo nelle chat quindi potete chiedere magari di borse quali borse abbiamo le mie ragazze vi mandano tutte le foto necessarie sia delle borse che delle scarpe che dei foulard perché ci sono veramente tantissime fantasie tantissimi colori di foulard che potete vedere tranquillamente in foto ci sono anche i cinturoni che sono arrivati nel color coccio che tanto mi avete chiesto e insomma sono arrivate tante cose ieri quindi chiedetecele chiedetecele su whatsapp e sicuramente vi mostreremo quanto voi volete vedere va bene io ora vi saluto perché devo aprire il mio negozio devo accogliere i miei clienti che già mi stanno aspettando fuori e vi do appuntamento a martedì quindi fate un buon weekend divertitevi rilassatevi e ci rivediamo martedì va bene un bacio a tutte a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie.